Western Digital ha realizzato un prodotto a cui abbiamo assegnato un voto di 9.4 su un totale di 10 punti. Online, risulta essere il più venduto. Questi sono i suoi punti di forza. Facile da montare. Capacità di archiviazione. Ottimo rapporto qualità-prezzo. Facile da installare. Durabilità. Trovi il link di questo prodotto con tutte le informazioni e il prezzo aggiornato in basso nella descrizione del video. La valutazione finale assegnata a questo articolo di Seagate è di 9.4 voti su un totale di 10. Risulta essere il più votato per questa categoria con 30.634 valutazioni. Le sue peculiarità sono. Facile da installare. Capacità di archiviazione. leggero. Stile. Ottimo rapporto qualità-prezzo. Se cerchi maggiori informazioni e vuoi vedere il prezzo aggiornato di questo prodotto controlla il link che trovi nella descrizione sotto il video. Sandisk ha realizzato un prodotto a cui abbiamo aggiudicato un voto complessivo di 9.6 su 10. Questo è il migliore di questa selezione. Viene molto apprezzato per queste caratteristiche. leggero. Facile da montare. Facile da installare. Ottimo rapporto qualità-prezzo. Capacità di archiviazione. Durata della batteria. In basso, nella descrizione di questo video trovi il link per avere maggiori informazioni o consultare il prezzo aggiornato di questo prodotto. Il voto complessivo di questo articolo di Sabran è di 9.6 su 10. Al momento è il più esclusivo di questa selezione. Le sue principali funzionalità sono. Facile da montare. Facile da installare. Capacità di archiviazione. Stile. Ottimo rapporto qualità-prezzo. Puoi acquistare questo prodotto o scoprire maggiori informazioni cliccando sul link che trovi in basso nella descrizione del video. La votazione finale assegnata a questo prodotto di Crucial è di 9.4 voti su 10. Risulta essere il più scontato di questa selezione. I punti di forza sono. Facile da installare. Facile da montare. Capacità di archiviazione. Ottimo rapporto qualità-prezzo. In basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto con maggiori informazioni e prezzo aggiornato. Questo articolo di Samsung Memorie ha riscontrato una valutazione di 9.6 su 10 totali. Risulta al momento essere il più desiderato. Ecco le caratteristiche che lo contraddistinguono. Capacità di archiviazione. Facile da installare. Ottimo rapporto qualità-prezzo. Se vuoi avere maggiori dettagli su questo prodotto o vuoi acquistarlo, clicca il link che trovi nella descrizione in basso del video. Samsung Memorie. Con questo articolo si è aggiudicato un voto finale di 9.6 su 10. Risulta essere al momento il prodotto più regalato. Le sue qualità sono. Facile da installare. Capacità di archiviazione. Funzione timer. Ottimo rapporto qualità-prezzo. Se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto o saperne di più clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video. Grazie a tutti.